Sogni d'oro, materassi qualità Permaflex a Pergine Valsugala Buongiorno, buongiorno, buon giovedì, buon giovedì 24 settembre Benvenuti, benvenuti a Mattino Insieme Franco Ianeselli si è insediato ufficialmente nelle ultime ore come primo cittadino della città capoluogo e c'è da dire che già impazza quello che noi giornalisti definiamo il Toto Giunta Dobbiamo anche ricordare che proprio nella giornata di oggi parte il Festival dell'Economia in una versione del tutto inedita perché sarà una versione praticamente completamente online ne parleremo diffusamente e tra poco avremo ospite in studio il Rettore dell'Università di Trento Paolo Collini Ma come tutti i giovedì mattina, lo avete già intravisto, c'è qui accanto a me il Direttore di Vita Trentina Diego Andreatta, buongiorno Buongiorno, buongiorno Marco e anche a chi ci ascolta Come tutti i giovedì vogliamo commentare e offrirvi la prima pagina e anche perché no le pagine interne del settimanale Diocesano che abbiamo anche qui con noi e che il Direttore ha in mano in questo momento Ecco lì la prima pagina, ve l'abbiamo mostrata anche in anteprima in rassegna stampa questa mattina Chiaramente in apertura c'è un Franco Ianeselli sorridente che dall'alto guarda Piazza Duomo La mia città dell'incontro, è questo proprio il titolo che avete scelto Diego? Sì, ci sembrava un titolo adeguato anche alle proporzioni del successo di Ianeselli che è passato al primo turno e non era scontato e che sottolinea poi questa dimensione della città accogliente, della città plurale che è poi stato il filo conduttore delle sue dichiarazioni dopo voto ma anche della sua campagna elettorale Ecco dietro a ogni copertina si nasconde qualche retroscena un po' lo sfizio della nostra redazione ma soprattutto del nostro fotografo Gianni Zotta e di avere un'immagine che sia esclusiva e quindi dobbiamo ringraziare anche la segreteria del nuovo sindaco che ci ha concesso appunto di portarlo in un luogo che si affaccia su Piazza Duomo un ambiente abbastanza esclusivo e possiamo offrire ai nostri lettori ecco questa foto che è anche piuttosto curiosa di un sindaco quasi che scopre la piazza che è poi il salotto ma anche il cuore storico della città Devo dire che come l'ho vista questa mattina questa immagine ho visto immediatamente che lì la firma era di Gianni Zotta perché si vede chiaramente insomma la particolarità proprio di quell'immagine dov'è che eravate esattamente? Posso chiedervelo? Questo è appunto uno scoop Questa è un'abitazione privata di una nostra lettrice che in queste importanti occasioni ci concede questa sorta di appunto affaccio esclusivo sulla piazza poi un altro retroscena è che purtroppo la fontana del Nettuno appare ingabbiata e protetta dai teloni e qui dobbiamo ringraziare i nostri grafici che hanno realizzato questa sorta appunto di copertura in cui abbiamo inserito poi il nostro sommario ecco sono elementi così che fanno parte del retroscena giornalistico mi piace anche così renderne conto perché si vede quanto poi il giornale non è fatto solo da chi lo scrive ma anche dai fotografi e dai grafici è sempre un giornale da vedere prima ancora che da leggere Ecco secondo te che tipo di sindaco sarà? Che sindaco sarà Franco Ianeselli Diego? Ma sicuramente è un amministratore nuovo perché intanto è abbastanza raro che chi viene da un'esperienza sindacale poi accetti di passare dalla parte della governance e già questo è un elemento quindi una persona che conosce il mondo del lavoro sappiamo quanti sindacalisti poi si portino dentro questa dimensione anche giustamente rivendicativa di un'equità sociale che poi è sinonimo di sindacato nello stesso tempo è una persona colta, preparata una laurea in sociologia anche un interesse intellettuale piuttosto vario anche una volontà di lasciarsi contaminare da altre culture da altre sensibilità e quindi un amministratore non intellettuale e penso anche pragmatico che insomma è stato forse anche cambiato dalla sua città da questi anni appunto di attività prepolitica che poi hanno trovato un punto d'incontro nella scelta di varie forze politiche che hanno trovato pescato in lui quel nome che probabilmente invece il centrodestra non è riuscito a individuare e che questo può essere anche uno è sicuramente uno dei motivi del risultato che è sicuramente più ridotto rispetto a quello che sarebbe stata la somma delle varie forze del centrodestra che invece si sono presentate e divise Dicevo prima in apertura che impazza il Toto Giunta che lo sappiamo appassiona noi giornalisti ma appassiona tanto anche i lettori secondo te che tipo di giunta sarà quella di Aneselli? Ma intanto il numero degli assessori che sappiamo può essere variabile dalla giunta 8 o la giunta a 9 Gianeselli ha già detto che sarà una giunta 8 4 uomini e 4 donne probabilmente alcune caselle anche dalle prime dichiarazioni sembrano andare alle assessore che sono state premiate anche dal voto di preferenza sul resto ci sarà inevitabile la necessità di dare visibilità ma non solo anche responsabilità più che visibilità alle forze della coalizione quindi alcuni nomi sono scontati immagino però che il sindaco almeno su una poltrona o due vorrà regalarci anche qualche nome nuovo vedremo Vedremo e per il posto di Presidente del Consiglio Comunale si parla appunto della figura di Paolo Piccoli Sì è una previsione anche questa piuttosto facile perché quella di Presidente del Consiglio è un ruolo, un incarico istituzionale che insomma generalmente è riservato a chi abbia anche non solo competenze giuridiche ma anche delle riconosciute doti di mediazione ma anche di esperienza politica e sicuramente da studioso anche del movimento cattolico politico trentino Paolo Piccoli ha queste caratteristiche quindi immagino che questo sarà anche un riconoscimento del buon risultato della lista insieme per Trento la lista del sindaco che ha anche reso evidente come insomma Ian Esalli gode di una simpatia politica che va al di là di un'appartenenza ad un partito quindi questo è stato sicuramente un altro motivo della sua affermazione personale Io adesso vorrei riflettere su quello che è il tuo editoriale di questa mattina che i lettori trovano su Vita Trentina i comuni rinnovati, scrivi, orano, siano più generativi che cosa intendi con questo? Sì, ho cercato di lanciare, di introdurre un concetto che si sta venendo avanti insomma nel mondo della valutazione delle amministrazioni pubbliche che è quello appunto dell'indice di generatività dove in pratica non si va a valutare la capacità la buona politica soltanto in base al PIL alla capacità di produrre ma dalla capacità di creare un impatto sociale e comunitario con le scelte che si fanno quindi anche le scelte nell'innovazione strategica le scelte in campo economico vengono valutate sulla base della loro capacità di attrarre coinvolgimento delle persone del volontariato, del privato sociale dei corpi intermedi c'è alcuni studi econometrici che tra l'altro escono ogni anno da qualche tempo insomma con una classifica proprio sul benvivere è definita in cui questo indice di generatività appare anche misurato ecco sappiamo almeno l'anno scorso che ad esempio Trento si trovava in buone posizioni però questo è un invito che noi possiamo fare anche alle amministrazioni più piccole non ci interessa solo il comune ricco quello può dipendere anche dalle possibilità del proprio territorio ma la vera ricchezza è quella di creare un comune un comune coeso un comune attento alle fasce svantaggiate un comune in cui la intergenerazionalità si gioca e si sviluppa con efficacia da questo punto di vista nell'editoriale scrivo che la conferma di alcuni sindaci uscenti va letta anche come un apprezzamento probabilmente di questi aspetti cioè della capacità del sindaco e della sua giunta probabilmente anche dei consiglieri anche di quelli di minoranza di creare un'amministrazione nei paesi piccoli questo è sicuramente più facile che in quelli grandi in cui vivere sia piacevole sia stimolante e in alcune realtà è così diciamocelo accanto al tuo editoriale ricordate ovviamente la giornata del migrante del 27 settembre sì, è voluta da Papa Francesco che ha anche ridenominato questa giornata chiamandola del migrante del rifugiato a Trento ci sarà una mostra promossa dalla diocesi in Piazza Fiera su dei pannelli sull'edificio della Curia e attraverso Roberto Calzà che è la referente della Caritas spieghiamo questa giornata che quest'anno copre un po' anche l'assenza della festa dei popoli per ovvi motivi in questi giorni c'è anche oltre al Festival dell'Economia che abbiamo nominato prima anche in apertura e ne parleremo dopo con il Rettore e in questi giorni c'è anche Religion Today sì, questa rassegna cinematografica che sta crescendo ulteriormente anche grazie alla nuova direzione molti film in arrivo molti richiami all'attualità ci sarà un omaggio a Sergio Zavoli col suo documentario Clausura anche a Degno Morricone anche questa una proposta culturale originale di cui la nostra città deve essere orgogliosa voi vi occupate chiaramente delle elezioni che hanno coinvolto i 156 comuni trentini date anche all'interno di Vita Trentino un po' tutti i risultati non dimentichiamoci però che siamo andati a votare anche per il referendum lo sappiamo ha vinto il sì anche se forse in Trentino quel sì non è stato così marcato come a livello nazionale sì, certo questo hai detto bene è un tratto un po' distintivo come dice il nostro politologo Paolo Pombeni che scrive da 40 anni su Vita Trentina e che è anche uno degli opinionisti più ascoltati nel mondo cattolico si va forse esaurendo una certa spinta antipolitica e populista che si era manifestata negli anni scorsi soprattutto stando anche alle ultime elezioni visti i risultati del 5 Stelle e anche un certo un certo arretramento della Lega nell'opinione pubblica comunque uno snellimento uno sfoltimento insomma della squadra parlamentare della compagine parlamentare era doveroso penso che tutti comunque fossero responsabili che non basterà la conferma di questo passaggio deciso dal Parlamento per risolvere alcune anomalie alcune strutturali difficoltà del nostro sistema istituzionale che richiede una riforma alla quale insomma i partiti dovranno mettere mano per concludere la nostra chiacchierata un richiamo a quello che voi definite un po' uno dei temi della settimana ossia l'accoglienza che parte dai ponti simbolici ecco è un'altra iniziativa di questa settimana è ricchissima la settimana dell'accoglienza il CNCA coordinamento delle comunità d'accoglienza ha presposto un programma molto diffuso molto capillare che sfrutta i ponti come luoghi simbolici dedichiamo due pagine a questo evento ma anche nei numeri scorsi abbiamo fatto un cammino di preparazione con i giovani troveranno i lettori il programma su Vita Trentina e la prossima settimana sicuramente avremo i riflessi di questa di questa iniziativa che dimostra insomma come il tessuto comunitario del Trentino sia molto ancora molto vivace molto attento ed è merito del coordinamento quello di attivare dal basso una manifestazione così capillare io ringrazio molto Diego Andreata che è il direttore di Vita Trentina per il punto di vista che ci porta tutti i giovedì e per la mano concreta che ci dà proprio ad interpretare quello che accade nel nostro Trentino sul nostro territorio grazie Diego grazie a te buona giornata ed ora parliamo del Festival dell'Economia lo dicevo anche prima in apertura oggi viene inaugurato un Festival dell'Economia veramente del tutto particolare perché sarà un'edizione online causa pandemia pandemia